Giorgina sei pronta? Sì ci sono ci sono operativa Ho detto sei pronta? Carichissima cazzo E allora andiamo ragazzi e porco d***a tutti e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Come avete visto ragazzi siamo con la signorina Giorgina L'amore mio Qui presente bella gente ciao Come vedete però questa volta lei dà la sua postazione e io ovviamente giocherò dalla mia postazione Andiamo a fare una bella partita su Fortnite in pubblica no build Con l'intento di trovare il Barret che è tornato dopo circa un anno un anno e mezzo Sei felice del ritorno? Assolutamente sì Ma a te non piacciono i cecchini scusa? Cosa? Io li amo i cecchini porco d***a Prima di cominciare con i video ragazzi vi invito dalla subito a lasciare un bel pollicione in su E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Inoltre trovate in descrizione il canale di Giorgia Anche perché domani nel canale di Giorgia vedrete una bella challenge che abbiamo fatto insieme Dico bene? Eh dici molto bene molto molto bene Ragazzi io ho già paura quindi veramente non commento di quello che andate a vedere Inoltre vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni sul mio canale di Giorgia Delle 16 in poi e trovate anche la signorina Giorgina Dico bene? Link in descrizione Link in descrizione Ma ora ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a giocare su Fortnite Buona visione Allora Amo andiamo a questo momento che ci piace tantissimo come land ok? Vai vai parte negozio ovviamente per favore devo andare a fare shopping In che negozio vai? Eh credo andrò a questo qua in fondo è Gucchi Mi piace la roba di Gucchi Gucchi o Buccine? Buccine mom! Nooo No non ci dicono queste cose io veramente guarda non commento Ci rispacciamo Credo che ci siano un po' di persone Forse un team? Due? Ma li vedi? Ah ok sono dietro di me Sì li vedo Sono un po' dietro di me anche Più che altro chissà dove cavolo si trova il Barret Cioè io non È quello il problema Secondo me faremo un game alla ricerca del Barret Cacchio è entrato uno da lì Sì è salvati da Sì è salvati da Ok L'ho distrutto Se ti interessa ho una revolver Morto? Oh ma c'è giù che c'eva Kratos 79 Cacchio ho trovato il cecchino ma quello basico Ah no si chiama Kratos questo che ho ucciso Mi chiama Kratos? Kratos 69 C'è una da me? Arrivo di revolver Dissuto? Morto Anche lui cecchino è normale Oh cavolo Ma la domanda è La domanda è Immagina ti svegli E mi ritorno di fianco a te Che cosa fai? Merda merda arrivano qua Arrivano qua Devi rispondere alla domanda Eeeh Ti sputino l'occhio È sul tetto Quasi craccato Sono un po' incazzati questi Rivedo eh Ok Ho un'idea Mi ho fatto un po' di male Mi è stato un impulso Mi ho buttato via eh Ok Quasi noccato la La tizia quella Sono pieni di roba Ehi un problema chicca Sono pecora Devo 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 Aiuto Non so cosa fare Craccato di craccato Ok Ma c'è una fiocina 75 è craccata Con la fiocina 75 di nuovo Quasi noccata amore Vado di uccina Noccato 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 no Vado di ucciso Vado di ucciso Fatto vado 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 di ucciso Volevo farla di fiocina Ma non mi entrava l'ultimo hit Cioè Cosa sei Un demone inca Scurra Ora il problema è che io vorrei aprire un po' di casse Nella speranza di trovare Sai L'arma che vorrei sinceramente provare dopo un anno e passa Se indovini Se indovini Quanti colpi di mitraglietta ho Vengo e ti do un bacio 104 Corro Dov'è 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 Eccolo Cazzo cazzo Ok C'è guarda che ti faccio guadagnare baci gratis senza motivo Ti sono estasiata C'è un player da me fermo Ah ma c'è un player FK No 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 Aspetta non era più FK No 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 Aspetta vado a farlo C'è un problema abbiamo un team bianchi dietro Ma cosa fa Sei cazzo da Giorgia Sì Ucciso c'è l'altro eh Ma che lo sia sotto comunque Sì sì Magari aveva il bar Qua Traccato Te lo scopacchi io Sì sì Ah c'è ti 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 Cacchio cacchio sono sceso Aspetta che salgo Distrutto di sotto Dimmi che c'è il bar Lo distrutto No Vai distrutto l'altro L'aserato 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 Ok Mannaggia Justin Bieber No Lupo di merda Ok Buttami ancora più dietro Fidati Ti vede Ti vede Ti vede Un po Qua è meglio Qua è meglio Qua è meglio Secondo me Dai 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 Devo restarla raga Anche se Anche se vi dico la verità Non me lo fa fare Vi dico la verità Vederla in questa posizione Mamma mia Andare su Sì sì Perché qua non c'è niente Ho già guardato Vai andiamo Io l'ho già preso Ah merda lì Quella laterale lì Dicevi Uè guarda me Tanaeva Sono qua da me anzi Sono qua sotto Corro Corro Merda 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 Ma distrutto Dove più 18 Lo dovrei fare Lo dovrei fare Fortuno Craccato quest'altro In volo Dove è andato Quello che volava È andato sotto Mi sa Dice che voleva Vendere la card Ah no passi qua Era lì sopra Non ci credo Ma Ma veramente Rimasto lì Ma era il barret Craccato Mentirave Ultimo Preso Ma c'è vero il barret No Cioè non lo so No è il cecchino normale È Uno è il cecchino viola pure Mi faccio un attimo Lo studone No Mi distruggono No non è vero Sì Mi hanno distrutta In una maniera Che non hai idea Ma no Sono la torre Io c'ho 5 splash Usale così Sicuri anche tu No io muoio Io muoio Cazzo Vendimi la Eh volevo Infatti facessi Vai Tu riuscirei Arrezzare la sottoscritta Hai anche due Impulse I believe in you Non andare a sinistra Nella torre c'è un team Esatto lì E non ha messo Nessun colpo Dopo 0 Mica rega ma ha squagliato Cioè ma distruggono Ha linciata proprio Usiamo la tecnica segreta Ne hai un'altra a sinistra Hai visto? Secondo me Morirò te lo dico No 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 Io confido Nelle tue Due palle Che hai nell'inventario Musichetta del rest Io metto Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Aspettare questa canzone Mi ha fatto un po' emozionare Devo essere sincera Sono veramente contenta di ciò Perché mi sono impegnata veramente per strapparti un sorriso La ringrazio Si figuri No cazzo Spacca spacca Non puoi andare da sopra No cazzo non si può uscire Spacca spacca Fatto sono fuori Vendere in pulso questo Comprale Non ho preso 6 Non ho fullato Ce ne sono due per terra Mamma mia Arrivo Non è possibile che non si trovi il Barrett Ma perché No infatti io lo vorrei vedere sto Barrett Anche perché cioè in realtà è forte ma non è forte come una volta Quindi dai su via Ma donna l'hanno distrutti là sopra Chissà magari c'è un Barrett Sono ancora vivi Vedi quello che si chiama Uccia Madaro Si E' quello che mi ha laserato malissimo Ok io provo questi qua Non so se andarli un attimo in bocca Nel senso per vedere se magari avevano Vuoi pusharli Allora il Barrett Allora il Barrett Allora il Barrett L'ho sentito L'hai sentito Si 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 ce l'hanno Arrivo C'è un Barrett Devi corre Allora Vieni qua Sono qua sopra Sopra intanto Erano Eccolo là sotto Eccolo lì sotto Qua sotto Kicca sono sotto 28 28 Quora 28 45 Mercoledì Si accado No accado No accado No accado Ok Arriviamo L'arrivò Mentre Dopo Stai attento Lo pusho Basta Giorgina Si va Devi prenderti il Barrett Devi prenderti il Barrett Non vede il Barrett Come no Non vede il Barrett No Kicca Allora dove cacchio è Allora sono quelli da questa parte L'ho sentito Sono sicuro Anche io Però questi qua Mi sa che hanno finito un fight E non l'hanno preso da quelli lì No c'era che ero sicata Raga non ci credo Qua aspetta Barrett no Aspetta questa è normale Quello È il Barrett È il Barrett È il Barrett Corri 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 Allora abbiamo ancora tre player Se li fai tutti e tre Con il Barrett Ti offro Per due cene di filar C'è chi ha detto C'è sia tante C'è tante Mamma mia Non c'è tante Ero c'è tante Bravissima 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 Ho detto L'altro c'è l'altro qua A mano puoi fare di col Barrett Sì ma dammi una mano Dammi una mano Dammi una mano Certo vai Ero c'è una mano Distrutto Ero scari Ho dovuto per far sapare così Ma bravissima Bravissima Non ho cure Non ho cure Sono senza cura Eccole Eccole Lo vedo Eh l'impulso Devi farlo Devi farlo Piuttosto l'ultimo, se dovesse morire lo ammazzo io, ma devi farlo 120, 120 è una volta di trickshot, vado di trickshot Vai, 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 di trickshot Io non li sparo, mi faccio sparare a me, mi faccio sparare a me Ricarico Lo hito un pochino, perché tanto musica ricarica la vita Quasi Ho ferito l'impulso C'hai tempo, c'hai tempo Te lo spacco io, eh Cacchio, one shot, amore, non posso spararli Qua su, qua su, qua su Hai bene, vai che fly Hai veramente Hai veramente trovato il Barret alla fine Sai quanto fai Ned, quello blu? Fa 180 Ti ricordi quello di una volta che faceva tipo 3,75 Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video E finalmente Con tanta fortuna siamo riuscite a trovare il Barret Anzi, Giorgia ha trovato il Barret C'è una Una vista proprio da aquilotto In calore, dico bene? Dici benissimo Molto bello ragazzi, è stato bello ritrovare il Barret Anche perché era da tantissimo che non usciva su Fortnite Ed è sempre un'emozione veramente incredibile usare il cecchino O perlomeno il Barret Anche se per me il vero Sniper rimarrà sempre il Caccia Punto e basta, è imbattibile Il Caccia, my love E anche your love Il Caccia ragazzi Solamente i veri OG che mi seguivano dall'epoca Si ricorderanno del Caccia ragazzi Canto era divertente Però il Barret E' altrettanto Se siete arrivati a questo punto del video ragazzi Mi raccomando lasciate da subito un bel pollicione in su E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E vi ricordo che trovate in descrizione anche il canale di Giorgia E domani troverete una bella challenge che abbiamo fatto insieme Quindi mi raccomando Aspetta, aspetta, aspetta A 4.000 like ritorno però anche sul tuo canale Quindi sfondate il tasto del like Vero, anche se ti devo dire una cosa Il video quello che abbiamo fatto del bacio Ha spaccato letteralmente tutto Cioè è veramente volato Stava a 40.000 Ma veramente? Tantissimo Stava sopra le 40.000 Un sacco di like Assurdo Veramente Un supporto incredibile Detto ciò ragazzi Dalla vostra creatomist è tutto E anche dalla vostra Giorgina è tutto Eccola qua Noi ci ribecchiamo in un prossimo video Bella a tutti ragazzi Ciao